Allora, siamo qui con Lorenzo, che abbiamo conosciuto durante l'occupazione del Casana, siamo qui alla sede al Regina Margherita Occupato. I ragazzi, ovviamente, gli studenti stanno occupando per l'alternanza scuola-lavoro e il secondo scritto alla maturità. Lorenzo, cosa ci puoi dire? Siete in molti che state occupando, fate rete, è un movimento nazionale. Secondo voi la politica vi sta dando ascolto? Allora, è un movimento nazionale, quello che sta nascendo è un fermento studentesco che a inizio anno è sicuramente partito da Roma e che adesso si sta allargando a Torino. Noi qua da Regina Margherita siamo contentissimi di aver preso parte, c'è tanta bellezza, c'è tanta voglia di attivarsi da parte degli studenti, di mettersi in prima linea, di mettersi in gioco, una cosa che non mi aspettavo in questa entità. Se la politica ci sta ascoltando, dipende cosa si intende per ascoltare. Io penso che la politica stia tenendo molto sott'occhio quello che stiamo facendo e quello che si sta muovendo. Io credo che la politica in questo momento stia prendendo nel modo totalmente sbagliato perché ascolta quello che diciamo ma non per mettere in piedi un dialogo costruttivo e per mettere effettivamente in pratica quello che diciamo. Io credo che la politica guardi a quello che facciamo con paura, con timore e la repressione dei cortei per Lorenzo Parelli ne è la dimostrazione, ne è l'esempio lampante. Ecco, ma voi in realtà volete un tavolo, immagino, a cui vogliate partecipare come movimento studentesco a determinate decisioni, è corretto? Allora, queste sono decisioni che andranno prese nell'ambito cittadino, anche con la consulta. Ci sono delle idee, di richieste che vorremmo fare il 18, al momento non c'è ancora niente di definito. Quello che però abbiamo ribadito negli scorsi giorni è che i tavoli devono esistere non come contentino, non come una briciola che ci viene concessa dopo che sono successe determinate cose. Il tavolo deve partire con delle condizioni. Il motivo per cui sono stati rifiutati dei tavoli nelle scorse settimane con la questura, con la prefettura, è stato perché noi con dei tavoli che negano ogni tipo di responsabilità con quello che sta succedendo e con quello che è successo, non li vogliamo. Cioè un atteggiamento da parte delle istituzioni, anche di presa in giro, di poco rispetto di quello che stiamo facendo. Proprio modalità comunicative, non consone per la costruzione di un dialogo. Noi queste modalità le rifiutiamo e devono anche rendersi conto che non stiamo giocando. Per noi non è un gioco occupare una scuola, comporta delle responsabilità e delle difficoltà non indifferenti, nessuno lo fa per saltare delle ore, perché fare lezione è molto più semplice da gestire rispetto ad occupare una scuola. Quindi la politica deve accorgersi che facciamo sul serio e trattarci seriamente. Oggi è venuto Jay Axe qui al cantante rapper, qui a Regina Margherita. Com'è stato l'incontro? Bellissimo, poco da dire. È stato stupendo e fantastico che personaggi di questo calibro, con un nome importante, si mettano con umiltà a servizio della voce studentesca. Lui si è dimostrato una persona fantastica, è stato super disponibile e la sua presenza qui fa veramente in modo che nel nostro piccolo grande l'occupazione della Regina Margherita possa essere un megafono per la voce di tutti e tutte. Grazie Lorenzo. Prego, ciao. Ciao.